Si è concluso l'anno gregoriano nel millenario della nascita del santo pontefice Gregorio VII al secolo Il De Brando da Sovana, aperto esattamente un anno fa. Celebrate dal cardinale Giuseppe Betori, assieme allo Stato Maggiore della Chiesa Toscana, le reliquie del santo sono state protagoniste per l'ultimo giorno nella cattedrale di Sovana, da dove poi sono ripartite per il Duomo di Salerno, accompagnate dal locale Vescovo Salentino. Un segno di unità dell'Episcopato Toscano, che io qui rappresento appunto per dire come le Chiese di Toscana sono unite a questa Chiesa di Pitigliano Sovano Arbetello, nel dare la testimonianza della loro devozione, della loro ammirazione, della loro gratitudine per quel che Gregorio VII è stato per la Chiesa. Purtroppo, a causa della ben nota situazione pandemica, quasi tutte le celebrazioni e gli eventi programmati nel 2020 sono stati annullati, ma non per questo, dicono i vertici della Chiesa Cattolica, si è perso quel senso di appartenenza che al contrario anima la comunità locale, orgogliosa di annoverare tra gli illustri concittadini anche Il De Brando da Sovana, oggi meglio conosciuto come San Gregorio VII. Grazie Grazie Grazie